Sono Giuseppe Cocco e sto viaggiando lungo la Toscana dei Sapori per raccontare e suggerire a te, turista o viaggiatore del gusto, produzioni agroalimentari tipiche, territori, luoghi che rappresentano le biodiversità e le identità materiali e immateriali dell'Italia. Il Senese è tutta collina, un territorio adatto alle colture della vite e dell'ulivo quanto all'allevamento vino e bovino. A nord il Chianti, mosso paesaggio di vigne e ulivi, di paesi e contrade in variati orizzonti. A Ponente condivise con Pisa le colline metallifere, plaga boscosa e poco abitata. Nell'eccezionale quadro enologico senese San Gimignano figura soprattutto con la DOCG Vernaccia di San Gimignano, vino bianco noto sin dal 200, primo a ottenere la DOC e poi la DOCG. La cittadina s'annuncia da lontano. Le quindici poderose torri residue formano uno skyline inconfondibile, scampolo di medioevo giunto intatto o quasi sino a noi. Dicono le torri di una ricchezza antica dovuta all'essere tappa della via francigena che attraversava piazza della cisterna e sfila ai piedi della collegiata. La strada della Vernaccia copre buona parte del territorio comunale, esplorandolo con quattro percorsi. La cucina essenese con in più la zuppa allo zafferano, della preziosa spezia, i pistilli del fiore del croco già esportata in epoca antica e in effetti ripresa la produzione. A San Gimignano assiede il consorzio che si occupa della promozione della finocchiona, uno dei salumi più popolari della Toscana. Da qui si impone una deviazione per Poggi Bonzi, Colle di Valdelsa e Monterigioni. Le mura, ritmate da quattordici torri, appaiono oggi come le descrisse Dante e le videro i pellegrini romei. San Gimignano è un comune toscano della provincia di Siena, i cui abitanti sono detti San Gimignanesi e i suoi patroni sono San Gimignano e Santa Fina. Per la caratteristica architettura medievale del suo centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il sito di San Gimignano, nonostante alcuni ripristini otto-novecenteschi, è per lo più intatto nell'aspetto due-trecentesco ed è uno dei migliori esempi in Europa di organizzazione urbana dell'età comunale. A chi venga da lontano, annotò Walter Benjamin, subito il borgo sembra scivolato di soppiatto come da una porta, nella campagna circostante. Esso non dà l'impressione che sia possibile raggiungerlo, ma se si fa tanto di riuscirvi, allora il suo grembo ci accoglie e ci si perde nel concerto dei grilli e nel vociare dei bambini. Passata la porta San Giovanni ci si sente in un cortile, non in una strada. Anche le piazze sono cortili e in tutte ci si sente al riparo. L'uomo che le abita dura fatica a rammentarsi di ciò che gli occorre per vivere. Tanto il profilo di questi archi e di questi merli, l'ombra e il volo dei colombi e delle cornacche, gliene fa scordare il bisogno. Alta sul colle dominante la Val d'Elsa, nel cuore di una campagna di olivi e viti, San Gimignano è uno straordinario esempio di città medievale, rimasta intatta nell'assetto urbanistico definito, come ho già detto, tra il 200 e il 300 e quasi cristallizzata nel tessuto edilizio, che nonostante alcuni ripristini illustra le stratificazioni e l'organizzazione urbana d'età comunale. Il borgo, fissato dalle mura duecentesche, si struttura su due assi intersecantisi a croce, corrispondenti il più antico del secolo X alla via di comunicazione est-ovest, tra il poggio della torre, sede del castello Vescovile, e quello di Montestaffoli, luogo del mercato. L'altro, tuttora fondamentale, al tracciato urbano della Francigena, che dalla meridionale porta San Giovanni a quella settentrionale di San Matteo attraversa l'intero abitato, allargandosi a formare, nel baricentro urbano emergente, anche altimetricamente, il sistema delle piazze centrali. Su queste direttrici maggiori, ma soprattutto nel nucleo primitivo, murato entro il X secolo, si addensano con eccezionale intensità le torri e le case torri, appartenute alle famiglie della ricostocrazia mercantile e finanziaria, che con impatto visivo di rara suggestione connotano da sempre l'immagine urbana di San Gimignano. Il turismo costituisce l'ossatura dell'economia cittadina, ma i colli della Val d'Elsa continuano a dare uve pregiate con le qualità e con le quali è prodotta la vernaccia, rinomata oggi come nel Medioevo. Sorta quindi in sito sicuramente abitato fin dal tempo degli Etruschi, come attestano i numerosi ritrovamenti di tombe nel suo territorio, San Gimignano è documentata dal 929 e, alla fine del 1000, è citata nell'itinerario dell'arcivescovo Sigerico come borgo sul tracciato della Via Francigena, nella quale, proprio in corrispondenza dell'abitato, confluiva la strada fra Pisa e Siena. Il nucleo formativo, murato già nel 998, si sviluppa tra il poggio di Monte Staffoli, sito di una rocca del Vescovo di Volterra, che vi istituisce un fiorente mercato, e il poggio della Torre, poi della Canova, con il castello Vescovile. La politica di espansione territoriale e la crescita delle attività commerciali, che non risentono dell'apertura del nuovo tracciato della Francigena nel 1150 circa, determinano, a cavallo tra il 1000 e il 1100, la formazione, sulla strada maestra, dei due borghi, di San Matteo verso Pisa e di San Giovanni verso Siena, protetti da una cinta più ampia entro il 1214. Nel secolo XII-1100 San Gimignano diviene libero comune, retto dai Ghibellini, avviando la fase di massima espansione economica fondata sulla commercializzazione dei prodotti agricoli locali, primo fra tutti lo zafferano, che alimenta fiorenti traffici con altre località italiane, Lucca, Pisa, Genova, ma anche con la Francia e con i Paesi Bassi. Dal possesso fondiario, unito all'apertura di sempre nuovi mercati verso la Siria, l'Egitto e alla speculazione finanziaria con alcune tra le più potenti famiglie sangimignanesi che si arricchirono con l'usura, emerge nel 1200 una ricca aristocrazia urbana, che esprime l'affermazione politica e sociale nella costruzione delle torri. Nel 300, 1300, saranno ben 72, di cui ne sussistono 15. Le torri e i palazzi si concentrarono nella contrada di piazza, corrispondente al nucleo più antico, gareggiando in altezza e differenziandosi dall'edilizia circostante, civile, urbana, per uso dei materiali di efficace effetto cromatico, il rivestimento in conci di macigno. Nel corso del secolo, gli ingenti capitali accumulati sono investiti in opere pubbliche e in sistemazioni urbanistiche che cominciano a configurare l'odierna articolazione degli spazi. Nel 1251 Monte Staffoli viene inclusa nel perimetro murato, ma pochi anni dopo, nel 1255, per volontà di Firenze, che riesce ad imporre la sua influenza sul governo del comune, le mura sono demolite. Nel 1261 fino al 1263, tornata a San Gimignano Ghibellina, a seguito della battaglia di Montaperti, venne compiuta una nuova cortina murata che inglobò il poggio della torre e fissò definitivamente la forma della città. Questa fu al suo interno articolata nelle contrade di piazza, di castello, di San Matteo e di San Giovanni, ciascuna dotata di porta. A partire dai primi decenni del 1200 e ancora nel secolo successivo, si insediarono in città, con il favore del comune, gli ordini religiosi, che si attestarono ai vertici dell'espansione urbana, in aree scarsamente edificate e prossime alle porte. I francescani, nel 1247 fuori porta San Giovanni, gli agostiniani nel 1280 presso la porta di San Matteo, i domenicani nel 1325 a Montestaffoli, le benedettine di San Girolamo nel 1337 alla porta di San Jacopo. Nel corso del 1300 le guerre, le lotte intestine, irriducibili quelle tra gli ardinghelli guelfi e i salvucci chibellini, la carestia e infine la peste decimarono la popolazione e segnarono il definitivo declino economico e civile di San Gimignano, che nel 1351 si dette a Firenze, rinunciando all'autonomia e a un ruolo politico nella regione. In quell'anno i fiorentini costruirono la rocca di Montestaffoli e nel 1358 rafforzarono il circuito murario. Grazie alla committenza religiosa e alla vivacità degli ordini monastici, non venne però meno il contributo alla cultura e all'arte, che sotto l'influenza fiorentina affianca ai capolavori di Memmo di Filippuccio, di Lippo e Federico Memmi e di Taddeo di Bartolo quelli di Benosso Gozzoli, del Ghirlandaio e del Pollaiolo. Alla marginalità della città nei secoli successivi si deve l'integrità della struttura medievale dell'abitato, che dal 1929 è sottoposto integralmente a vincolo monumentale. Tutta l'area entro le mura è chiusa al traffico privato, salvo autorizzazione per raggiungere gli alberghi. L'itinerario descritto è tutto qui.